nome solo mia gianluca soprannome sole ciccio melfa o medio mel quale poster avevi in camera da bambino le winks mike tyson e tupac da quanto tempo fa il bartender due anni otto anni locale dove lavori argo corse due parole sulla bartendancy della tua città in progresso grande crescita e molto gratificante un aggettivo per descriverti sorridere poco serio il tuo pregio simpatia il tuo difetto la compostezza troppo istintivo il tuo cocktail preferito clover club rob roy cocktail che odi il vodka lemon perché non amo far bere male le persone a che età il primo cocktail preparato da te 18 anni 18 a che età la prima volta l'amore 15 posto più strano dove hai fatto l'amore non ve lo dico se non mi carcerate un campo domus aurea qual è il tuo nomignolo fra le lenzuola vikingo il cliente più bizzarro mai servito è bella domanda signor alessandro non è alessandro propoli una ragazza chiedendomi fai una delle sprizze più sprizze che aver al conosci il tuo avversario si purtroppo molto poco pregio del tuo avversario molto elegante molto estroverso un difetto del tuo avversario troppo estroverso no non è vero serie tv preferita o si charlotte un superpotere che vorresti avere il teletrasporto la velocità cosa pensi di alessandro procoli penso che sia un grande maestro che sia una delle figure del bartending italiano più importanti degli ultimi dieci anni mi aspetto di imparare tante cose da lui e della mario molto carina molto più simpatica di quello che mi aspettate la adoro mi piace un sacco chi vince la sfida fra voi due gianluca devo risponderti per forza io perché se non ci credo io non ci credete neanche voi o forse io lo scopriremo grazie